Buongiorno. Buongiorno cazzo, stavo parlando con una figa e mi avete rotto i coglioni. No, ma lei è il signor Sgarbi? E noi siamo sui grandissimi fan. E quindi? Se non farci un selfie. Ma io non faccio nessun selfie, voi siete qua per fare i controlli, quindi fate i controlli. E allora, attente il libretto signor Sgarbi. Io non vi do un cazzo. Ma come, lei ha detto di fare i controlli e... Ma se non conoscete neanche il codice della strada! No, no, guarda che noi siamo perfettamente studiati, eh. Ah sì? E allora, qual è il limite di velocità in una strada urbana? Agli 70 km orari. 110. Capre! Capre ignoranti! È 50 km orari! E cosa serve la patente C? Ah beh, per l'influenza. Quella è la vitamina C! Capra! Capre ignorante! Dai, patente libretto. Non scusi se lo Sgarbi è che noi non siamo... Voglio la vostra patente e il vostro libretto. Patente libretto nostra? Patente libretto! Dai, dai, forza, forza. Patente libretto! Va bene, dai, dai. In fondo mi piacete anche.